Questione Imo, tutti i comuni accomunati da questo problema, disparità nei trattamenti e disparità anche nei conteggi. Cosa risponde il comune di Padova? Il comune di Padova, che io oggi rappresento nella riunione dell'Anciveneto, ha avuto una differenza tra la stima del Ministero e l'effettivo incasso di circa 5 milioni di euro. Voi capite bene che non si possono chiudere i bilanci del 2012, anche perché si deve aspettare il fondo di solidarietà, la cui quantificazione dovrebbe arrivare in aprile, per cui non si chiudono i bilanci del 2012 e comunque non si fa il bilancio del 2013. Quindi è in enorme difficoltà, come peraltro tutti i comuni del Veneto. Anche il suo comune ha diritto al ricorso di Anciveneto al Tarveneto. Il comune di Padova intende, o sì, il comune di Padova è fra i firmatari del ricorso, non è tra i comuni ad Uvandum, è proprio uno dei comuni primi firmatari del ricorso contro appunto questa quantificazione, diciamo almeno bizzarra, che ha fatto il Ministero della quantificazione appunto dell'Immu del comune di Padova. E quindi adesso andremo avanti con il ricorso, come ci ha precisato anche il Presidente dell'Anciveneto. Perfetto, grazie.